Il governatore della regione Campania, Vincenzo De Luca, non ha perso l'occasione per rifilare una nuova stoccata nei confronti dell'esecutivo presieduto da Giorgia Meloni. È il governo più burocratizzato e per di tempo che l'Italia abbia mai avuto. Ha commentato a margine dell'inaugurazione del nuovo ospedale di Solofra in provincia di Avellino. Il presidente ha poi proseguito l'attacco in merito al finanziamento dei 120 milioni provenienti dal Fondo Regionale Europeo del Polo Logistico di Valle Ufita, a servizio dell'alta capacità ferroviaria Napoli-Bari. Loro non hanno messo un euro. I fondi, infatti, sono della regione Campania che li ha destinati alla realizzazione delle infrastrutture. Un affondo giunto quasi inaspettato, visto il clima di distensione che si era percepito dopo il meeting tenutosi un mese fa a Roma con i vertici del governo. L'ex sindaco di Salerno si è poi espresso in merito alla ristrutturazione del nosocomio avellinese, i cui interventi di manutenzione sono costati 26 milioni di euro. Abbiamo compiuto un miracolo, ha concluso, realizzando in poco più di due anni un punto di riferimento all'avanguardia.